Spire Circolare Immaginate che ci siano due spire circolari con coassiari e coplanari Cosa vuol dire coassiari? Cos'è facile? Quindi qual'è il piano che condividono la lavagna? Ecco una spira bella e grande Ecco un'altra spira coassiale piccolina Questa piccola ha un raggio R1 Quindi questo ha raggio R1 E questo invece ha raggio R2 Immaginate che R1 sia molto piccolo rispetto a R2 Spire coassiali e coplanari Calcolare il coefficiente di mutua deduzione Molto semplice Allora Ricordate che se avete Questo è un discorso generale Se avete due spire Ok? Spira 1 e spira 2 Se voi immaginate di avere una corrente per esempio nella seconda La chiamate I2 Ci sarà un flusso attraverso la 1 dovuto al campo magnetico creato dalla spira 2 D'accordo? E la notazione che usavo io era che il flusso del campo magnetico attraverso la 1 dovuto alla spira 2 percorso della corrente è proporzionale alla corrente che circola qui E il fattore di proporzionalità si chiama coefficiente in mutua induzione Quindi quella M se volete Non metto pedici Perché Io faccio la domanda in qualche modo opposta O speculare In cui chiedo qual è il flusso attraverso la 2 dovuto a una corrente qui Il flusso attraverso la 2 dovuto a una corrente qui Qui se qua ci fosse una corrente I1 È proporzionale alla corrente che gira nella I1 E il fattore di proporzionalità è lo stesso Si dimostra Ok? Allora io vi chiedo qual è questo coefficiente in mutua induzione in questa configurazione qua Allora come vedete avete due strade Da fare Che danno lo stesso risultato Cioè voi potete immaginare di avere una corrente nella spira Nella spira 2 Potete immaginare di avere una corrente nella spira 2 E calcolare il flusso del campo magnetico attraverso la 1 Dovuto alla corrente che sta circolando la 2 Oppure potete fare un altro approccio Che è questo qui Potete immaginare di avere una corrente nella 1 E calcolare il flusso attraverso la spira 2 Creato dal campo magnetico della spira 1 Due strade Quindi una strada è questa qua Che dice che M è uguale a Fi 1,2 diviso I2 Quest'altra strada è che M è uguale a Fi 1,1 diviso la corrente nella 1 Due strade che darebbero la stessa risposta Ok? Una strada Quindi facciamo per esempio Facciamo questa prima Così capite un attimo Come possiamo rappresentarla Facciamola qua Questa è in vista laterale Questo è il vostro occhio Avete che so? Questa è la spira grande Ecco qua E qua Tanto per gessi colorati Facciamolo in giallo La disegno un po' sopra Solo per differenziarla D'accordo? Così Quindi questa è la spira 1 E questa è la spira 2 D'accordo? Immaginatevi avere una corrente Attraverso la 1 Quindi non so Immaginate che la corrente Stia entrando qui Quindi qua avete la X E quindi sta sbucando qua E quindi come sapete Se questo è l'asse Che è condiviso dalle due spira Tra l'altro Allora avete le linee di campo anetico Sull'asse che sono così Poi questo è più o meno così Il solito disegno Che più o meno dovete essere in grado Di fare Almeno qua effettivamente Nessuno pretende un calcolo Importante che voi abbiate i concetti Immaginate cosa sia la situazione Poi è chiaro che ci sarà Non lo posso disegnare Perchè non ho la risoluzione Il gesto è troppo ciccione Quindi questo rappresenta Il campo magnetico Creato dall'aspira 1 Quindi questo qua è il campo Dove lo posso scrivere E' la B1 D'accordo? In giallo Sto immaginando questo scenario qua Quindi sto immaginando Sto immaginando di avere una corrente Nella sfira 1 E sto immaginando di avere una corrente E sto immaginando di avere una corrente Per calcolare M Per calcolare M Devo calcolare il flusso Attraverso la 2 Dovuto alla corrente della 1 Quindi il primo messaggio Che si dovrebbe vedere qua Il primo commento La prima reazione vostra Dovrebbe dire O per la peppa Come faccio? E' un conto complicato Perchè è complicato? Io sto cercando di calcolare il flusso Attraverso la spira 2 Dovuto chiaramente alla corrente della 2 La spira 2 è la spira grande Quindi tra le infinite superfici Perchè quando si fanno i flussi Voi potete pensare a qualsiasi superficie Aperta si intende Che si appoggi sulla curva 2 Sulla grande spira E qual'è la superficie a cui vi conviene pensare? Vi conviene pensare alla superficie Tesa con la membrana di un tamburo Quindi magari in blu la disegno Qua avete la superficie blu E state cercando di calcolare il flusso Del campo giallo attraverso la superficie blu E voi guardate la figura Una cosa è certa Sarà un conto complicato Perchè? Perchè il campo giallo è molto disuniforme Non è uniforme Qua è intenso Vedete le linee di campo sono vicine E poi il campo si indebolisce E' chiaro che qua Se il disegno fosse fatto bene Dunque dove è giallo? Le linee di campo sono così Cioè le frecce sono così Quindi in questo punto Il campo magnetico Come potrei dire In questo campo per esempio Il campo è di intensità Facciamo così Qua in questo punto è un campo più debole La frecce è più piccolina Qua il campo addirittura è un po' più forte In questo punto della lavagna In questo punto della superficie blu In questo punto è debole In questo punto è ancora più debole D'accordo? In questo punto addirittura il campo È molto forte E molto intenso Ha un modulo molto grande E addirittura va verso l'alto Qua In questo punto qui Il campo è intenso E va di là Qui è meno intenso Ma addirittura va verso il basso Qua è più debole Vedete è molto disuniforme Non ha lo stesso modo Ed addirittura cambia il verso Quando siete nei punti infermi Quindi il calcolo Il calcolo di questo fi qua Di questo fi 2,1 Cos'è fi 2,1? È il flusso attraverso la superficie Questa lo chiamiamola la superficie 2 Perché è una superficie che è sulla curva 2 Sulla spira 2 Del campo magnetico Questo è molto disuniforme Quindi questo calcolo Potete immaginare che è impegnativo Adesso immaginate l'altra strada Questa qua Quindi lo stesso disegno Piuttosto di cancellare e rovinare questo La ripropongo qua su Questa è la spira 2 Questa è la spira 1 E questa volta state immaginando Di avere la corrente nella 2 Quindi state immaginando Di avere la corrente nella spira grande Quindi immaginate di avere la corrente entrante qui Che invece è così In bianco E questo sta uscendo Quindi cosa avete? Certamente avete il solito disegno Quindi avete le linee che sono così D'accordo? Poi avete le linee che sono Forse conviene fare così Vorrei fare lo stesso disegno Però ovviamente della spira 2 Quindi avete le linee che sono così Poi le linee che sono così Sto disegnando molto male Forse conviene fare così Conviene disegnare da quelli attorno prima Ma penso che i più svegli di voi Hanno già capito il trucco Qual è il trucco? Qual è l'idea? L'idea è Se io sapessi disegnare meglio L'idea è Che qua Le linee di campo Creato dalla spira 2 Sono molto simili Le linee di campo sono Come potrei dire In modo più efficace E' una buona approssimazione Asserire Che se la spira gialla E' molto piccola Rispetto alla spira grande Cioè se questa è molto piccola Il campo magnetico Creato dalla spira 2 E' qua dentro E' quasi uniforme Perché è così piccola La spira piccolina Che non vi accorgete molto Delle disuniformità Dovete immaginare Che più piccola è questa Più voi andate a campionare Una zona molto piccola dello spazio E le linee di campo Creato dalla spira esterna Cambiano di poco Più piccola è l'area Della spira piccolina Al centro Se la spira al centro Fosse grande Allora vi accorgereste Che il campo Creato dalla spira grande E' disuniforme Se questa spira 1 Fosse che so Così Il campo attraverso queste zone E queste zone dello spazio Sarebbe disuniforme Però dovete ammettere Che più piccola è la spira interna Più piccola la fate Meno vi accorgete della disuniformità E quindi Quando la spira interna E' molto piccola Allora potete asserire Che il campo magnetico Creato da quella esterna Attraverso i punti dello spazio Della superficie Di quella piccolina E' più o meno Sempre lo stesso valore Cambia di poco E' uniforme Non so se l'ho detto In maniera Molto chiara Stamattina Il disegno E' quella che è Ma dovete immaginare Che più piccolo Io faccio questo giallo Più mi accorgo Sempre meno Della disuniformità Delle linee bianche Questa è una internazione buona Infatti ho esortito dicendo Supponiamo che questa piccolina Sia molto più rispetto alla grande Perché è una buona internazione? Perché il flusso Questo pezzo qua Il flusso attraverso la 1 Dovuto alla 2 Che a rigore è Si Qua stiamo facendo Attraverso la 1 Quindi è la superficie Che è appoggiata sulla curva 1 E' un elemento di area Della superficie 1 Sto facendo il prodotto scalare Del campo 2 Creato dalla spira 2 Attraverso l'area Attraverso la superficie 1 Allora Se questo E' molto poco disuniforme Cioè quasi uniforme Su tutta la superficie 1 Questo valore comune A tutti i punti della superficie 1 Può essere trattato fuori dall'integrale E potrei anche usare Per questo valore comune Proprio il valore al centro Cioè io sto asserendo Che se prendo questo valore qua Il valore al centro della spira Allora io posso asserire Con un'ottima approssimazione Che il valore comune Del campo magnetico sulla superficie Tesa come la membrana Di un tamburo Della spira piccolina Il valore comune In tutti i punti E' proprio il valore al centro Della spira grande Cioè vi sto asserendo questo E questo è circa uguale Al valore al centro Creato dalla spira 2 Ok? Per l'area Cioè porto questo fuori dall'integrale Qual è il valore comune E' il valore del centro Per l'area della spira E l'area della spira Visto che la spira è circolare E' pi greco R Qual è la spira interna? Il raggio R1 R1 Al quadrato Quella è l'area della spira Piccolina Perchè esce fuori Questo qua sarebbe il valore Del modulo ac Perchè? Perchè? Questo non è un prodotto scalare Il prodotto scalare E' un 6 coseno dell'angolo Si Ma qual'è la situazione qua? Il valore del campo al centro E' questo qui Quindi questo valore qui E' così E io ovviamente Questo è a 90 gradi Rispetto alla superficie Della spira interna Perchè? Perchè le spire erano coplanari Deve essere chiaro Che questa spira gialla E' coplanare E' coplanare E' coplanare Quindi ho 90 gradi qua La spira interna E' coplanare Non è orientato Quello potrebbe essere Un altro esercizio Un altro esercizio Potrebbe essere Calcolare I coefficienti Mutuale Induzione Visto in sezione Un'aspira così E un'altra spira Messa così Ok? Invece questo è un coplanare Quindi vedete che L'elemento di aria Della curva Perchè dovete immaginare Che io sto parlando Della superficie Tesa come una membrana Sulla spira piccolina Quindi ho un elemento di aria E l'elemento di aria E' parallela Al campo magnetico Quindi quando faccio Il coseno Quando faccio il coseno E questo è il protoscavale Quando faccio il protoscavale Tra il campo E l'elemento di aria Avrò questo Perchè L'angolo è di 0 gradi Coseno di 0 è 1 E quindi ho il modulo di questo Per la somma dei moduli Di tutte le aree Quindi questo è l'area Della spira interna Questo è il campo magnetico Al centro Della spira grossa Ed è un'ottima Approssimazione Asserire che Sulla superficie Della spira interna Piccolina Il campo magnetico E' più o meno Sempre uguale Al valore Al centro Della spira grande Va bene? Quindi vedete Che l'esercizio Converge rapidamente Perchè a questo punto Questo quanto vale? L'abbiamo calcolato L'altro giorno Quando parlavamo Della resi biossalat Dovreste ricordarvi Che se avete Una spira circolare Percorsa da corrente Quindi avete Una corrente I Qual è il valore Del campo magnetico Proprio al centro Se la corrente sta girando Il senso orario Il campo magnetico Esce dalla lavagna E qual è il valore? Se R è il raggio Della spira Il campo magnetico Al centro Sappiamo che esce Ma il modulo cos'è? E' mu0I Della corrente che gira Diviso 2R Giusto? Ricordate che Non c'è il pi greco Perchè non c'è il pi greco? Ripetete il conto Per la legge di osservare E quindi Questo qua Diventa Mu0 Questo è il campo Dovuto alla corrente 1 Alla corrente 2 Scusatemi Il campo Vedete che Questo è il flusso Adesso 1 Dovuto alla corrente Nella 2 Quindi questa è la corrente 2 Diviso 2 cosa? Il raggio della 2 Quindi R2 E quindi vedete Che questo Complicato Difficile Perchè è difficile? Perchè B1 E' molto Disuniforme Invece questo E' una stima facile E la stima migliore Sempre di più Migliora Per R1 Molto migliore Di R2 Cioè è una stima Certo Ma diventa sempre più affidabile Più piccolo E' questo qua Più piccolo E' questo qua Più la disuniformità Non ve ne accorgete Quindi potete stimare Il valore comune A tutti i punti Con il valore Al centro Stima facile Perchè facile Perchè 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 Noi ovviamente Prendiamo la strada A minore resistenza Se facciamo La soluzione facile Stiamo calcolando M in questo modo Non in questo Se siete bravi A calcolarlo Va bene Vi darò la risposta giusta Il problema è calcolarlo No? Quindi Questa non l'avete più Pallidea O almeno In un corso elementare Non sapete come calcolarlo Quindi questa Non è la strada buona Questa strada E' la strada Infelice Questa invece E' la strada buona D'accordo? E quindi calcoliamo Quindi per evitare Questo per evitare M Facciamo un'altra esigenza Quanto è M? M E' uguale a questo Diviso Quindi scriviamo intanto Il risultato Perchè lo scritto In maniera un po' Scriviamo Fi 1,2 Mettiamo i pezzi Quindi ho Mu 0 I2 Diviso 2 R2 Pi greco R1 Quadro Va bene? Di questa espressione Guardate quello che C'è un errore? No, no, no Questo è il calcolo Del flusso Attraverso la 1 Dovuto alla corrente Nella 2 Guardate qui il risultato E mettete Isolate tutto quello Che non è la I2 Cioè tutto questo Tutto quello che non riguarda Che non contiene la I2 Tutto questo Quello è la M Perchè è più uguale a quello Diviso di 2 Ecco che avete calcolato I coefficienti in una riduzione Facciamo un altro semplice esempio Stato facile E se è una fase difficile L'importante è che voi sappiate Che danno entrambi lo stesso valore Quindi calcolatelo Con la strada facile Si dimostra che danno lo stesso risultato Cioè si dimostra che M131u2 è uguale a M1321 Immaginate un filo rettilineo Spero che è meglio il caso che io tolgo la maglia Se no diventa non più blu Ma qualche colore indipinto Io odio questa camicia Indovinate perchè? Perchè odio questa camicia? Perchè non ha il taschino Perchè non ha il taschino Il taschino è una grandissima imbedizione Non so, io ero dato Compro le camicie in blocchi E evidentemente mi è scappato Il mio 3-1 Che se non aveva E' il taschino Si so che le mie camicie non sono belle Sono un americano Non potete pretendere Però il taschino Si fa avere una camicia seduta Allora immaginate Un filo rettilineo percorso la corrente E immaginate qua Sul piano della lavagna Disegno un rettangolo E questo rettangolo Rappresenta per il momento Una curva chiusa Poi lo faremo diventare Una spira di rame Per il momento è una curva chiusa E questa curva chiusa Sta nella lavagna Quindi il filo e il rettangolo Individuano un piano E il piano è la lavagna D'accordo? Immaginate che la corrente Stia andando verso l'alto Io voglio che calcoliate il flusso Del campo magnetico Attraverso qualsiasi superficie Il flusso attraverso questa curva qua Tra le infinite superfici A cui vi conviene pensare Pensate a quella attesa Come la membrana del tamburo Questa qua Quindi conviene pensare proprio A questa superficie qua Quindi io voglio il flusso Del campo magnetico Si intende Che è per definizione Qual è la superficie a cui Vi conviene pensare? A questa qua Calcolatela dunque Facciamo questa vista qui Quindi questa è la vostra spira Questo è il filo Immaginate che la corrente Stia serendo Quindi voi vedete La corrente che sta entrando così D'accordo? E voi dovete immaginare Se la superficie è tesa come La membrana del tamburo Eccola qua Questa è la superficie Va bene? Volete calcolare il flusso del campo Magnetico creato da questo Attraverso quella superficie blu Com'è il campo magnetico? Dovreste sapere Il campo magnetico in questo punto qua Com'è messo? Se la corrente sta entrando Il campo magnetico qua è una freccia Che va verso il basso Qua com'è? E' meno intenso Addirittura Addirittura sapete Se questa distanza è totta E questo è circa il doppio Per caso Ho fatto così Allora Questo sarà la metà Di questo Perchè l'andamento del campo magnetico Dovreste sapere Che l'andamento del campo magnetico E' proporzionale A 1 sulla distanza dal filo L'abbiamo dimostrato Con la legge di Ampere E quindi vedete Che il campo magnetico Non è uniforme D'accordo? Quindi Dovremmo un po' pensare Come calcolare il flusso Allora Una cosa Per noi Dovrebbe essere evidente Questo esercizio Ha degli aspetti Che dovrebbero essere visti Come un ripasso Di strategie di integrazione Che abbiamo già sfruttato In passato Questo punto qua Che ha una certa distanza Questo punto qua Che ha la stessa distanza Questo punto qua Che ha la stessa distanza Questi tre punti Il campo magnetico Ha lo stesso modulo Quindi la strategia Di integrazione La strategia Per stimare questo E' di dividere La superficie blu In striscia Questa è una striscia E facciamo striscia Striscia Larga Che so Delta x Quindi questo punto Dista dall'asse Chiamiamolo x Questo punto Della superficie E' il punto più vicino Questo punto E' il punto più lontano Diamo delle quote Chiamiamo questa distanza qua La distanza dall'estremo Più vicino del filo Al filo A Invece questo qua La chiamiamo Che so Chiamiamo B B magari no Perché è questa espressione qua Come possiamo chiamarlo? Chiamiamo tutta la distanza B Ok? Tutta questa distanza è B Così che la larghezza della spira è B-A Ok? E quanto è lunga sta spira? Come la chiamiamo? La chiamiamo che so C Ok? A B Si Ok? E' lungo C E' largo B-A Il lato più vicino ha una distanza A E il lato più lontano ha una distanza B Va bene? Quindi io cosa farò? Farò la sommatoria di tanti contributi Di strisce quindi Sommo sui flussi attraverso delle strisce Come si scrive strisce? Strisce Strisce Così? Strisce C'è la I? Quindi arrotate strisce Allora qual è il contributo della iesima striscia? Il contributo della iesima striscia Cos'è? Allora voi immaginate che questo sia l'iesima striscia Quindi questo che so è delta x D'accordo? E voi prenderete il valore di B a questa distanza qua Quindi questa è la distanza x E qual è il campo magnetico in funzione della distanza? Il campo magnetico in funzione della distanza Sarà mu 0 I, la corrente che sta circolando nel filo Diviso 2 pi greco x D'accordo? Qua c'è il 2 pi greco Non fate confusione tra la legge B o Savar D'accordo? Questo è il valore del campo magnetico qua Adesso devo moltiplicarlo per l'area della striscia E cos'è? L'area della striscia per l'appunto è largo delta x ed è lungo c D'accordo? Quindi questo è c per delta xi Che è la larghezza dell'iesima striscia Questa è l'iesima striscia Questa qua è l'iesima striscia Questo è il flusso attraverso l'iesima striscia Quindi il flusso complessivo è la somma dei flussi Attraverso le aree in cui ho suddiviso la mia area La mia area l'ho suddivisa in strisce Quindi questo è il flusso attraverso l'iesima striscia Qual è il flusso dell'iesima striscia? E' l'area dell'iesima striscia Che è C, la lunghezza di questa belletta spira Che è la larghezza della striscia Per il valore del campo magnetico che io prendo A rappresentare il valore del campo magnetico Sulla iesima striscia E' chiaro che questo valore che ho scritto qui E' il valore a rigore proprio nel punto a distanza x Quindi è chiaro che la striscia ha punti Che sono a diverse distanze Ma nel limite in cui le mie strisce Diventeranno sempre più piccole Sempre più strette Perchè sto facendo un numero di strisce sempre più numerose E' chiaro che questa stima convergerà E convergerà Quindi io cosa faccio? Metto questo qui D'accordo? Quindi questo diventa Vedete com'è fatta questa sommatoria? Dov'è la delta xi? Ecco Porto fuori tutto quello che non dipende da Tutto quello che era una costante Continuiamo con la stima E poi la studiamo in forma integrale dopo Quindi mu zero i e due pi greco E c posso portarle fuori Quindi mu zero i c diviso due pi greco E mi rimane xi per delta xi D'accordo? Questo xi va giù eh Ok? Quindi il campo magnetico dipende 1 sulla distanza Allora la distanza di iesima striscia C'era, ho dimenticato in mezzo il tedesco qua Va bene? D'accordo? Quindi questo esce fuori Questo esce fuori Mi rimane 1 su xi per delta xi E a questo punto è evidente qual è La struttura dell'integrale Non mi pare Non capisco perché c'è illusio O perché non siete d'accordo con me E quindi state discutendo Questo mi farebbe piacere Sto commettendo un errore? Potrebbe essere, no? Perché sono stacco, sono vecchio Incoglionito Voi siete giovani e brillanti Sto facendo un errore? Perché c'è illusio allora? Non capisco Sto integrando, no? Questo diventa illusio E sto integrando E sto integrando Dalla distanza più vicina Dai punti che sono i più vicini che è A Ai punti che sono più lontani che è B Ok? E ovviamente questo è Muzi di C Due al filo Ecco Due al filo E' un rinforzo naturale Db di risuola Ok? Ci siamo? Qui? E questo è il flusso del filo attraverso la curva rettangolare Adesso il prossimo passo è di immaginare che questa curva rettangolare sia proprio un pezzo di rame Un circuito, un pezzo di rame, e li ridisegno qua, questo è un filo e questo è un pezzo di rame E io vi chiedo qual è il coefficiente di mutua induzione? Allora a rigore dovete pensare che questo filo è, matematicamente abbiamo esordito dicendo che è un filo rettilineo In realtà quel filo per essere un circuito deve chiudersi all'infinito Quindi la situazione è questa, voi avete un tratto rettilineo che poi ha una grande curva E si deve ricurvare dietro per fare il circuito, no? Quindi per tenere i piedi per terra da ingegneri che sarete Voi dovete capire che io in realtà vi sto immaginando, non potevo esordire dicendo così Immaginate un circuito con un tratto rettilineo, poi ovviamente se è un circuito deve chiudersi E poi prendo un altro circuito di forma rettangolare e lo metto molto vicino E' molto piccolo rispetto alle dimensioni di questo grande circuito E lo metto molto vicino al filo, così vicino che come vedete Io posso dire come una, se io adesso vi dico calcolate i coefficienti di mutua induzione Tra questo grande circuito e questo piccolo circuito voi potete fare una stima Perché il piccolo circuito, non solo è piccolo rispetto a quello grande Ma è molto vicino al tratto rettilineo e quindi voi fate una stima del coefficienti di mutua Facendo cosa? Facendo una idealizzazione di questo In cui dite, sono così piccolo e così vicino al tratto rettilineo Che posso immaginare di essere vicino a un filo rettilineo, retto nel senso matematico Determine, che va dritto, che va sempre dritto, allora il conto che fareste è quello che ho fatto qua Perché in questo conto io ho proprio immaginato avere un filo rettilineo Nel senso matematico del termine, dove il campo magnetico è questo qua Ci siamo convinti in questo, facendo ragionamento in simmetria sulla legge di Ampere Immaginando che il filo fosse proprio una retta, infinito Quindi questo diventa la stima di qual è il flusso attraverso quello piccolino Dovuto al circuito grande E a questo punto io dico qual è il coefficiente di mutua induzione Che c'è tra questo circuito molto grande con un tratto rettilineo E questo circuitino piccolo rettangolare messo vicino La stima del coefficiente di mutua induzione è questo tranne la I Quindi il fatto è uguale a mu zero C diviso 2 pi greco logaritmo di B diviso A Cioè tutto questo, a parte la I, è M Ok? D'accordo? Quindi cercate di focalizzarvi sullo spirito in questo circuito Una situazione reale dal laboratorio è questa Voi avete un filo, un tratto di filo rettilineo Avete vicino a un piccolo circuito rettangolare Chiaramente quel filo rettilineo deve essere chiuso in circuito Quindi questo valore è una stima, è un'approssimazione di questo D'accordo? Questo è un'approssimazione di questo E l'approssimazione si basa su questa idea Cioè che il filo sia in realtà una rett infinita D'accordo? Meditate su queste cose se siete ingegneri C qua non è la velocità della luce Forse mi sembro più appropriato, mi penso di aver usato Scrivete! Questo C qua è la lunghezza della spira Mettetano degli appunti C'è sempre qualcuno che non capisce quello che sta facendo E' iscritto in ingegneria ma non ne ha la stoffa E quindi si perde un litio d'acqua E mettetela tutti Nota bene, questo non è C Sveglia! Partiamo appunto personale, sveglia! Forse ho anche fatto bene a usare C Così siete invogliati a studiare con un po' di Di presenza di spirito e non in maniera passiva Credo che sia ora di fare una pausa Io sono stato Sì facciamo una pausa